buongiorno a tutti e bentrovati alla rubrica domanda risponde oggi parleremo di tfa perché si avvicinano le prove pre selettive si avvicinano le prove scritte e poi anche quella orale si avvicina anche il tempo poi delle gradatorie vediamo un po cosa potrà succedere in questo periodo prima domanda quando scadono le iscrizioni per partecipare alle prove pre selettive alle prove per entrare nelle gradatorie del tfa sostegno 22 23 in quasi tutte le università che hanno emanato il bando tfa sostegno le iscrizioni sono già scadute o stanno per scadere proprio in questi giorni si parte il 4 luglio con la preselettiva dell'infanzia poi il 5 luglio la preselettiva e la scuola primaria il 6 luglio la preselettiva della scuola secondaria di primo grado e infine il 7 luglio con la scuola secondaria di secondo grado cioè la preselettiva della scuola secondaria di secondo grado dopodiché ci saranno gli accessi alle prove scritta e alla prova orale domanda numero due gli aspiranti al titolo tfa sostegno con tre anni di servizio sui posti di sostegno negli ultimi cinque anni sono stati obbligati dai bandi delle università a fare domanda o sui posti ordinari al 65 per cento oppure sui posti riservati al 35 ma non hanno potuto fare domanda per entrambi le categorie di posti questo li penalizzerà su questo punto c'è una certa confusione anche nelle stesse università non si comprende bene come funzioneranno le gradatori in relazione alla suddivisione del 65 per cento dei posti ordinari e il 35 per cento dei posti riservati a quanto sembra ma non c'è piena certezza dei bandi universitari e dunque dai bandi delle università chi si iscrive per il 35 per cento dei posti riservati sarà regolarmente graduato per il cento per cento dei posti e in caso sia necessario potrà anche accedere con la riserva del 35 per cento immaginiamo non possa accadere che chi non dovesse farcela ad entrare nel 35 per cento dei posti con un punteggio più alto di coloro che entrerebbero nel 65 per cento dei posti ordinari resti escluso dal poter partecipare ai corsi tfa sostegno questo porterebbe sicuramente un contenzioso per cui le università dovranno fare attenzione alla compilazione corretta delle gradatori domanda numero 3 quando saranno pubblicate le gradatorie dopo le prove prese lettive ci sarà l'accesso alla prova scritta e poi a quella orale che si dovrebbero svolgere a seconda delle università comunque entro agosto 2023 e poi di seguito ci saranno le gradatorie sempre nel mese di agosto insomma per settembre tutto deve essere pronto in modo tale da poter partire con il tfa sostegno speriamo che queste risposte a queste domande siano utili ai nostri telespettatori seguiteci sui nostri canali social facebook youtube sul nostro sito www.tecnicadellascuola.it perché parleremo di questo tema ma anche di tanti altri ancora arrivederci grazie a tutti